Il 25 febbraio del 1942, 100.000 persone avvistarono qualcosa sopra il cielo di Los Angeles. Più di 1.400 missili terraria furono utilizzati dall'esercito americano, senza nessun effetto. Questo incontro fu solo l'inizio. La presenza di quegli oggetti non ebbe mai spiegazioni, fino ad ora. Questi oggetti non sono stati identificati fino a quando non sono entrati nella nostra atmosfera. Quello che abbiamo appena visto è venuto fuori dall'oceano. 12 diverse località del pianeta sono state attaccate. Ci sono migliaia di vittime a Mosca e Parigi. Abbiamo perso le comunicazioni con Tokyo, Rio e New York. Non possiamo perdere Los Angeles!